Questo incontro è realizzato in collaborazione con Ben ritrovati dal Pala Serenelli per il secondo set della dodicesima giornata del campionato Serie B Unica Maschile Gironè Tra San Presnavovole e Bontempi Casa Ancona, Fabio Lo Savio al microfono Primo set vinto dalla Bontempi Casa per 25 a 21 Un po' sorpresa potremmo dire anche se a guardare i numeri Troppi 5 errori in attacco per la formazione di Giannini Ferma al 40% in attacco nonostante i quattro muri Allora riprende il gioco con il servizio di Larizza Che è subito out L'orito che ha forzato molto dal servizio Trovando 5 errori, trovando solo un ace con Andrea Giuliani È la volta di Leonardo Scuffia Che va a saltare, trova anche lui l'errore 1-1 quindi in questo avvio di secondo set Dicevamo che una San Pres sicuramente non brillante nel primo set Si è ripartiti però con gli stessi sestetti dell'avvio Intanto va a sbagliare anche Ferrini Quindi per Loreto Giuliani in diagonale a Scuffia Spesca e Nobili sono gli schiacciatori Orazzi e Stoico i centrali Leoni e Libero per quanto riguarda invece La Bontempi, Larizza e Magini Diagonale palleggiatore opposto Bugari e Ferrini I schiacciatori, Rosa e Bizzarri Con Giombini libero Intanto un altro errore 4 palloni, 4 errori in battuta 2-2 in questo avvio È la volta di Bizzarri Palla in campo Trova Spesca, Scuffia però non può attaccare E allora ci prova Magini Giuliani va a correggere Trovando l'invasione di Rosa Si gioca Finalmente potremmo dire E Loreto vince questo scambio lungo 3-2 quindi Loreto che mette la testa avanti Probabilmente è la prima volta in questo match Nel quale ha sempre dovuto inseguire Nel primo set 3-2 San Pres con Michele Stoico A servire Va in diagonale Trovare Giombini Si sposta la Rizza Ancora dietro per Magini Palla veloce Out Il diagonale È out Il diagonale di Marco Magini Nonostante qualche timida protesta Dell'ex Ferrini Ma insomma la decisione è sembrata molto netta Sotto gli occhi del secondo arbitro Galteri Ancora Stoico Palla corta Ci arriva Giombini La Rizza primo tempo per Rosa Ancora un errore Nel tentativo di girare verso zona 1 Non ha trovato il campo Stavolta era saltato bene Orazzi a chiudere la traiettoria di Rosa Che ha cercato una soluzione difficile Allora Michele Stoico Che si sposta a servire in 5 Va a Bugari Deve alzare in bagger Per Magini Che questa volta Va a segno Nonostante il tentativo di scuffia Che mette fuori causa anche la difesa di Spesca Punto numero 3 Punto numero 3 per ancora 5-3 San Pres Magini ancora in rete Ancora un errore quindi Per dai 9 metri per la formazione ospite Più 3 per la San Pres Sicuramente i giocatori di Loretta In questo secondo set Sembrano avere Una faccia diversa Rispetto a quella vista nell'avvio Un po' di tensione Giocare da favoriti Non è mai semplice Nonostante la caratura L'esperienza Difende intanto Giuliani Alza Buona l'alzata Di Leone per scuffia Che tira forte sul muro 7-3 E allora Si comincia a vedere La vera San Pres Buona l'alzata Di Dilan Leone Perfetto l'attacco di scuffia Forte sulle mani Ancora Giuliani Su Giombini La pipe per Ferrini Ci arriva Leone Ma che non riesce a tenere vivo il pallone Buona questa combinazione Anche nel primo set Aveva dato buoni frutti Per Ferrini Che lo dicevamo Sta disputando Una buona stagione Primo set Discritto anche per lui 75% in attacco Nel primo set Per Ferrini Intanto Razzi Troverà doppio Proprio di Ferrini Va col diagonale Assegna Ancora una volta Federico Scuffia non riesce a difendere Sicuramente tra i migliori in campo Nel primo set Lo dicevamo Federico Ferrini E' la volta di Bugari Con Ancona che ha due lunghezze da recuperare Direttamente out Il servizio di Bugari E allora è la volta di Paco Nobili Andare al servizio Tre punti di vantaggio Per la Sun Press Nuova Volley In questo secondo set Vediamo Paco Che va a saltare In rete però Non buono sicuramente L'alzo Della Della palla Lancia della palla Per il capitano Di conseguenza L'errore E' la volta quindi Di Rosa Davide Rosa Perfetta La ricezione di Leoni Giuliani In quattro Per Spesca Che però Trova il muro di Bizzarri Bravo stavolta Bizzarri A chiudere il Diagonale A Simone Due su set Per Simone Nel primo set Ora impegnato Anche in ricezione Si deve spostare Giuliani C'è L'invasione Di Larizza Sull'attacco Proprio Di Simone Loretto Mantiene Due punti Di vantaggio E si affida Molto Al Servizio Di Michele Orazzi Dotato Di una buona Battuta Gianflotte Soprattutto Al Palla Bellini Di Osimo L'aveva Fatto davvero Male Alla formazione Osimana Bugarin Giuliani Non le trova Stavolta Buona guardia Questa volta A muro Per la formazione Di casa Che non si è fatta Ingannare Dal tentativo Di Ferrini E la volta Di Leonardo Scufia La volta È il momento Di allungare Per Loreto Ci prova Col suo Opposto Mancino A metà Velocità Al primo tempo Difende Scufia Giuliani In quattro Per Spesca E trova Ancora una volta Il muro Di Bizzarri Che fa Buona guardia Bizzarri Giocatore Fermato Da tanti Problemi Fisici Che ha preso Bene il tempo Ancora una volta Su Spesca Secondo muro Consecutivo Si fa sentire Il pubblico Il pala Serenelli Per sostenere La squadra Ferrini Va a mettere In difficoltà Spesca Fa un miracolo Scufia Free ball Per Ancona Dietro Per Magini Questa volta Giuliani Non riesce A difendere E allora Parità E allora Parità Parità Quota Dieci E sicuramente È una buona Battuta Quella di Ferrini Però Loreto Ha bisogno Del miglior Spesca Questa volta Ha aiutato Simone Dal nastro Giuliani Dietro Per Scufia Che non può Attaccare La Rizza Ancora in quattro Per Bungari Palla a terra Anche con l'invasione Del muro di Loreto E allora Più uno Più uno Montempi Casa Che ha ricucito E ha superato Una P4 Difficoltosa Da sbloccare Soprattutto Per la qualità Del servizio Di Ferrini Ex di turno Va a saltare Ancora Ferrini Stavolta Spesca Tiene bene Sui tre metri Si sposta Scufia Diagonale Potente Assegno Gran palla Di Leo L'ho detto Bisogna trovare Un po' di continuità In tutti i fondamentali A partire Senz'altro Dalla ricezione Ma anche dal servizio E allora La volta di Simone Va a Spesca Tira forte Spesca Ferrini La palla È da quest'altra parte Leoni Ricostruisce Per Nobili Che tira forte Colpisce Magini E poi Sul soffitto Del palazzerenelli Torna avanti Loreto Torna avanti Loreto Che con l'orgoglio Va Va avanti Ancora una volta Più uno E allora Una nuova opportunità De nove metri Per Simone Spesca Che tira forte Col nastro Va a trovare Lace Lace Su Bugarin Ecco Eccolo Il graffio Del campione Simone Spesca Nulla da dire Una carriera Straordinaria Per lui E allora Time out Per Giombini Dicevamo Simone Spesca Primo anno In maglia Nova volley Per la terza Volta è tornato A Loreto In una carriera Costellata Di successi Pensate che questo Giocatore Negli ultimi anni Ha sempre vinto Il campionato di serie B Ovviamente con maglie diverse Prima gioia del colle Poi la mezzia Romano Ma Loretano Di adozione Vive E lavora Proprio qui A Loreto Lavora Presso la Cessionaria Massacesi Concessionaria DR Per le province Un grande passato Ed un presente Molto molto luminoso Abbiamo visto In questo Graffio Col doppio servizio Ancora Simone Va a saltare Giocatore di striscia Fa quello che può Giombini La pipe di Ferrini È out Stavolta è out La pipe di Ferrini E allora Loreto Gallunga 14-11 Simone Ancora Spesca Vediamo la sua scelta Simone Ancora Giombini Si deve spostare La rizza Magini Palla difficile Trova il muro Di Stoico E nulla può Scuffia in difesa Si chiude quindi Il turno Al servizio Di Spesco Un turno Molto positivo Un quattro servizi Per Simone E allora È la volta Di Bizzarri Più due Loreto Bizzarri Riceve Stoico Giuliani Serve Scuffia Gran pallonetto Gran tocco Di Leo Arriva Bizzarri In tuffo Non in tempo Per tenere vivo Il pallone Più tre Loreto È il momento Di Michele Stoico Su Bugarri La rizza ancora Dietro Il money out Di Magini Su Nobili Aveva intuito il capitano La scelta dell'opposto Ospite Ma La deviazione La correzione Col muro Non ha trovato il campo E allora proprio Magini Salto flotto per lui Bene leoni Ora si La finta Spesca Si complimenta Con Scuffia Per il gran Diagonale Comincia a scaldare Il bracione Leo Indispensabile Chiaramente L'apporto offensivo Di scuffia Di spesca Per Loreto Giuliani Va a trovare Leis Bugarri In difficoltà 17 A 13 Loreto Prove tecniche Di fuga Per la formazione Di Giannini Non chiama tempo Leondino Giombini E allora Giuliani Va ancora a pizzicare Bugarri Questa volta è bravo Il diagonale Trova Leonardo Scuffia Con il muro Bravo Leo E allora c'è il cambio Esce Esce proprio Esce Bugarri Entra Giorgini Giovanissimo Giorgini Subito la responsabilità Di andare Ad opporsi al servizio Di Giuliani Vediamo quale sarà la traiettoria Scelta Da Giuliani E corta L'attacco Out Di Magini Ma c'è il tocco Di Orazzi Che molto sportivamente Si accusa Onestamente dalla nostra postazione Non ce ne eravamo accorti Bravo Razio A spegnere ogni Ogni tentativo di Ogni velletari protesta 18-14 Proprio Giorgini Al servizio È lunghissimo Il servizio Di Giorgini Controlla Leone Senza nessun problema Vede sfilare Il suo pallone Il pallone Scagliato al servizio Nettamente out E allora Paco Nobili Che sceglie una soluzione Pieda a terra La rizza Per Ferrini Il pallonetto Ci arriva Giuliani Orazzi con un miracolo Difende Leone E allora Spesca Tocca Magini Ci arriva In qualche maniera Ma poi Ancona Non può tenere vivo Grande azione Scalda il pubblico Si difende Con orgoglio Bravo Dylan A coprire Sull'attacco Di Scufia Bravo Razzi A alzare In acrobazia Bravi tutti I giocatori Di Loreto 20-14 Ancora in difficoltà Sul servizio Di Paco Nobili In difficoltà A Ferrini Chiude Scufia E stranamente Eccolo qua Invece Dicevamo Stannamente Giombini Non chiede tempo Non se ne accorge Il secondo arbitro Bravo la rizza Stavolta Sulla recezione A filo Che mette La palla Dietro Al muro Sfruttando L'aiuto Di Spesca Sul primo tempo E allora Cambio palla 21-15 15 per chi batte 21 per chi Disceve Con Rosa Al servizio Va a trovare Spesca Dietro per Scufia Mani out Da manuale Scufia protagonista Bravo anche Andrea Giuliani A cercarlo Con buona continuità In questo momento È il turno Di Michele Orazzi Su Giurgini La Rizza In 4 per Ferrini Ancora il muro Di Stoico Dietro per Magini Solito attacco Controtempo Bravo Razzi Che però Toccano Ma non riesce A tenere vivo Il pallone Non tanto almeno Per far sì Che sia giocabile Per Giuliani 22-16 Comunque Loreto In difesa C'è Questo è molto Importante La Rizza Suspesca Suspesca In bagger Per Scufia Stavolta non chiude Alza Giombini Per Magini Bella la parallela Stavolta Di Marco Magini Sfrutta lo spazio Lasciato Lungolinea Dal muro Di Loreto Punto numero 17 Buon tempi casa Ancora Tommaso La Rizza Servizio ancora Su Spesca Che va ad attaccare Tira forte Sulla diagonale Stretta Simone Importante Tornare a fare punti Anche in attacco Con buona continuità Per Simone Spesca Il cui Break al servizio Ha fatto la differenza Finora In questo set E allora È la volta Di Leonardo Scufia Salta Leo E va a realizzare L'ace Grande Ace Per Leonardo Scufia 24 17 Era mancato L'ace Di Scufia In questo match Finora Uno dei migliori Battitori Del gironè Del campionato Di Serie B L'opposto Di Macerata Ex Montalbano Va ancora A saltare Leo Trova Giorgini Chiude Stoico 25 17 A set Loretto Vince Il secondo set E mette in parità Il conto dei parziali 1 a 1 25 21 Ancona 25 17 Stoico A più tardi Per la ripresa Del gioco Questo incontro È realizzato In collaborazione Con Sampres Del Vicario Engineering Cori Lavori stradali Ed edili Calzaturificio Bruglia Elettro Zeta 2S System Brutti LAL Articoli Religiosi